Sotto i giorni che mi è stato a tenere qua, ve lo ripeto, ha organizzato una rapina, io insieme a Bruno, Bruno se lo mette dentro la gabbia del cane, come arrivava il napoletano con la roba, Bruno usciva fuori, lo gonfiava e gli dava tutto, solo che il napoletano ha mangiato la foglia. E' scappato dalla finestra, però che corsa a presto? Oh ma rotta il cazzo! Dottore, allora? Allora che? Ci sappia per culo sto pezzo del merda. Si è scappato tua moglie, ti ha mannato in galera, ti ha fatto le rapine e te? Sei un pezzo del merda, non vale niente, sei un cagasotto. Basta così chiudi sto verbale e mannamolo in galera. Tu cazzo vuoi eh? Io non so un cagasotto e mi dedico pure come l'ho ammazzato. Come? L'ho sventrato, l'ho fatto a pezzi e non è che gli ho fatto pure il taglio d'opperma. Come? 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 quando cassa arriva sul napoletano? oh ma devi rispondere quando cassa arriva sul napoletano so due ore che sto qua dentro c'è poco da aspettare perchè non arriva nessuno che cassa sta a dire? che cassa sta a dire? ha messo da merda? ha messo da abbia? ha messo da abbia? ha messo da abbia? ha messo da abbia? non mi sapeva che cassa te levo il cuore dal petto te levo! ha messo da abbia? ha messo da abbia? ha messo da abbia? ha messo da abbia? stai giocando? stai giocando? stai giocando? ma ora ti dico una cosa ora ti dico una cosa l'altra notte mi sono scopata a tua moglie a quella cagna stai a bevola stai a bevola stai a bevola così così come sto io adesso come vedi? eh? ma la sono scopata tutta la notte tutta la notte ma la sono scopata a quattro la cagna hai capito? bastardo? ha messo da bella apri messo da bella apri messo da bella apri messo da bella ha messo da bella ha messo da bella avivolo